8 bandiere blu per l'Abruzzo, la notizia di pochi giorni fa. Si tratta di 5 comuni del Terramano e 3 del Chietino. Tra le escluse dal riconoscimento anche il comune di Francavilla al Mare, che resta però, secondo i riconoscimenti, località con qualità eccellenti delle acque di balneazione. Stagione estiva dunque al sicuro, poiché, come spiega il primo cittadino, sono diversi parametri di valutazione per l'ottenimento del riconoscimento e l'intera amministrazione lavora per migliorare, di anno in anno, servizi e infrastrutture sul territorio. A certo ci dispiace non aver preso la bandiera blu. Riteniamo che la cosa sia giusta però, perché Francavilla ha avuto dei problemi nel 2015, qualche piccolo problema nel 2016 in poche zone. Le analisi del 2017 sono partite nel migliore dei modi, tutte le analisi ci restituiscono un'acqua pulita, quindi avremo una stagione bellissima qui a Francavilla al Mare e ovvio che contiamo di riavere la bandiera blu per il 2018. Il requisito non è solo la qualità delle acque, in verità ci sono i servizi da offrire, ma noi siamo pronti su tutti i profili. Il problema l'abbiamo avuto sulle acque, come abbiamo detto, l'anno scorso. Magari potrebbe succedere, questo per spiegare ai cittadini, non me lo auguro, ma una città che ha avuto la bandiera blu nel 2017 ha un problema nel 2017 in corsa e magari ha un'acqua meno pulita di un comune che non ha la bandiera blu nel 2017, perché è riferita, ripeto, alla stagione precedente. Noi siamo partiti con analisi arta ottime e quindi ci vantiamo di questo, pubblichiamo questo e contiamo di ottenere la bandiera blu nel 2018. Bandiera blu o no, Francavilla conferma anche quest'anno uno dei suoi assi nella manica, quello degli eventi offerti nel cartellone estivo, che dopo l'enorme successo di pubblico ottenuto con Antonello Venditti lo scorso anno, quest'anno rilancia con big come Tiro Mancino e Fiorella Mannoia, è una città che prosegue intanto il suo restyling.